Ciao ragazzi, allora qualcuno di voi in qualche video fa mi ha lasciato un commento con scritto Filo non ci aggiorni più come stanno andando i tuoi allenamenti Non vi ho aggiornato più per due motivi Il primo perché mi è caduto il cellulare in eccesso, ve l'ho detto più volte Stavo facendo i video con il cellulare perché portarmi il treppiede Voi non lo vedete, ce l'ho qua davanti È enorme, con la telecamera reflex ad allenamento è veramente impegnativo Soprattutto romperei i coglioni e tutti gli altri che si vogliono allenare lì in palestra con me Quindi è fuori discussione per ora Ho comprato però una cosa per attaccare al GorillaPod il cellulare Quindi cerco e spero di fare più video possibile nel futuro del mio allenamento Quindi aspettatevi di vedere qualche training vlog Qualche aggiornamento su come sta andando il mio allenamento, i miei massimali eccetera La preparazione per la gara degli italiani RAW del 2017 di Powerlifting Ecco, a proposito della preparazione per la gara Quelli che mi seguono un po' di più sapranno che per la prima volta in vita mia ho deciso di farmi preparare da qualcun altro C'era la possibilità di entrare a far parte del Project Momentum Che è uno studio che fa Mike Tushirer Nel quale decide di prendere un gruppo di persone che rispettano alcune caratteristiche che per lui sono quelle che ricerca E di allenarle gratuitamente, tutti allo stesso modo, con una scheda prefatta Per un arco di circa 10 settimane Per fare degli studi su nuove metodologie di lavoro Io mi sono sottoposto a questo studio, a questo Project Momentum Con la speranza, facendo per la prima volta un allenamento fatto da qualcun altro Oltretutto fatto da quello che per me è attualmente il miglior allenatore di Powerlifting al mondo Speravo di ottenere dei grandi risultati Ecco, la scheda secondo me era un'ottima scheda Fatta veramente bene Il problema era che era completamente in autoregolazione Voi sapete che io adoro l'autoregolazione Però io l'ho presa molto come una sfida Quindi non l'ho eseguita al meglio Sono stato un po' troppo testardo Un po' troppo orgoglioso Ho visto nelle prime settimane un miglioramento veramente importante Al punto che in settimana 4 ho fatto 230 kg di stacco Con un ampio margine Infatti mi aspettavo in quel giorno di essere in grado di fare almeno 240 E mi ero già messo a sognare nel test dei massimali di fare 250-260 kg addirittura E nella stessa settimana avevo fatto anche 140 kg per 9 colpi di squat Che io, voi non lo sapete Vi ho nascosto una cosa Nello scorso allenamento in cui avevo riprovato a tornare a fare squat low bar Per quelli che non lo sapessero Per farla breve high bar è quando appoggi il bilanciere sul trapezio Low bar quando lo appoggi sulla parte del deltoide posteriore Ero tornato a fare low bar perché sono molto più forte Mi sono infortunato la spalla sinistra che non è quella operata Questa è quella operata Vedete questa bella cicatrice che mi accompagnerà per il resto della vita Mentre questa era quella non operata Mi sono infortunato Mi sono infortunato al punto che tenere solamente il bilanciere sulla schiena mi faceva male E che non riuscivo a fare neanche 80 kg di panca Quindi sono dovuto tornare all'high bar Sono riuscito comunque a fare 140 kg per 9 colpi Che per me sono un record di cui vado contentissimo Perché nell'high bar io sono veramente molto debole Molto più debole che nel low bar E quindi stava andando tutta la grande Ho cominciato ad allenarmi più per impressionare il mio coach Piuttosto che per provvedere nel tempo Quindi non stavo più costruendo la forza Ma la stavo testando ogni volta che entravo in palestra Il fatto di fare 5 colpi Mi desse un RPE per regolarmi Quindi mi dicesse Fai 5 colpi con un carico con cui saresti in grado di farne 6 Io entravo in palestra con l'intenzione di fare Il miglior carico che io avessi mai fatto nella mia vita Siccome la quarta settimana era andata così bene Io davo per scontato che adesso quei pesi li avessi Qualsiasi volta andassi in palestra E ho cominciato a spingere sempre fortissimo Questo mi ha portato a distruggermi completamente Ho accumulato tantissima fatica Mi sono bruciato Ho cominciato ad essere stanco in continuazione Non riuscire più a dormire Mi sentivo male ovunque Mi sentivo a pezzi Sempre un gran sonno Non avevo più voglia di allenarmi Non ho mai saltato allenamento Sono sempre andato Ho sempre fatto tutte le serie Le ripetizioni richieste Continuavo ogni volta ad utilizzare Sempre più peso di quello che mi consigliavano Perché mi era entrato in testa il fatto Che dovevo per forza ottenere quei numeri E quei risultati alla fine dell'allenamento E questo ha fatto sì che mi sono completamente bruciato E il test massimale non è andato tanto bene quanto speravo Ho avuto dei progressi però Non così marcati Se faccio un paragone Con il test massimale dei 500 kg di totale Che vi avevo messo Dove avevo fatto 160 kg di squat 120 di panca E 220 di stacco Anche se quei 220 non erano validi Perché mi ero fermato Ed ero ripartito per chiuderla Quindi in gara non sarebbero stati validi C'è stato un miglioramento Un miglioramento quasi impercettibile Ho fatto 165 kg di squat Però con un po' di margine Avrei potuto tentare i 170 Ma volevo conservarmi per lo stacco Anche se non è stata poi una scelta intelligente Ho fatto 120 kg di panca Questa volta più veloci della scorsa Però comunque erano un massimale effettivo Veramente molto difficili E poi ho fatto di nuovo 220 di stacco Questa volta però Data la stanchezza accumulata Una cosa che noto io La prima cosa che mi cede Quando sono molto stanco Ho accumulato troppa fatica È la presa E in questo caso lo stacco Non riuscivo a sentirmi bene la tecnica Quando sono arrivato in blocco E l'ho bloccato su in alto Mi si è proprio aperta la pelle della mano Mi si è aperta la mano L'ho lasciata a terra Non ho potuto né ritentarli Per farli meglio Né provare un peso superiore In realtà li ho ritentati altre 4 volte I 220 Però questo non lo diciamo Perché non andrebbe fatto E niente Quindi non è andata proprio benissimo Non mi sento di biasimare il programma Ma la mia esecuzione del programma Il mio essere stato troppo testardo Orgoglioso E volere un pochino troppo Ho fatto esattamente quello che consiglio di non fare a voi Proprio al 100% Sentivo il bisogno di avere un progresso maggiore Perché essendomi infortunato alla spalla Ho cominciato a pensare Cavolo devo andare agli italiani E magari devo rifare lo stesso peso Che ho fatto l'anno scorso di squat Che figura di merda Mi sono cominciato a venire tutti questi pensieri in testa Avevo proprio bisogno di una prova Capito? Un riscatto Quelli che mi seguono di voi su Instagram Hanno anche visto che il giorno stesso ho scritto Ho bisogno di un riscatto Proverò a prendermelo oggi Non ci sono riuscito granché Il totale questa volta è stato 505 kg Sulle tre alzate 165 di squat 120 di panca 220 di stacco E adesso cosa succederà? Io ho circa 8-9 settimane per preparare gli italiani Ho deciso di nuovo Di farmi seguire da qualcun altro E non fare tutto quanto da solo come al solito Questa volta però ho chiesto aiuto a Filippo Ingrosso L'avete visto in un paio di video con me Quello del deadlift party E' quello di Fillo vs. Fillo A casa sua E vi consiglio di andarlo a cercare su YouTube Lui ha un canale piccolissimo Dove mette In suoi video delle sue alzate migliori Ma se non avete mai visto qualcuno Che ha 375 kg di squat Vi consiglio di andarlo a vedere Lui è fortissimo Sicuramente Penso sia il più forte in assoluto in Italia Adesso come powerlifter E lui è molto più esperto di me Nell'utilizzo delle percentuali Io sono sempre stato a favore dell'autoregolazione Ma ho visto che sono un po' troppo orgoglioso Mi aspetto spesso troppo da me E voglio provare anche le percentuali Non le ho mai provate bene Non ci ho mai dedicato molto tempo Quindi ho chiesto a lui aiuto Mi farà tutta la programmazione Qui negli italiani Questa volta non farò l'orgoglioso Farò solamente quello che si è scritto sulla scheda Come dovrebbe fare Una persona che si fa seguire da qualcun altro Quindi seguirò a filo Possibilmente se riesco Farò quanti più video possibile Mentre mi alleno In modo da potervi tenere aggiornati Sicuramente farò il video alla gara Spero di dissipare tutta questa fatica che ho accumulato E di poter tirare fuori Una prestazione buona agli italiani Anche perché mi sono messo in gioco Metto la faccia qua Ho intenzione di fare un bel video Far vedere anche l'ambiente del powerlifting Delle gare di powerlifting Che secondo me potrebbero interessare a molti È un ambiente molto bello Amichevole Farvi vedere i progressi che si possono ottenere Che può ottenere una persona con una vita normale Un lavoro impegnativo Una casa da solo come posso essere io Per stimolare tanta altra gente Che nella mia stessa situazione A mettersi in gioco Quindi ho intenzione di dare il massimo E fare del mio meglio Spero, spero di non deludervi Questa volta forse un pochino l'ho fatto Perché ho fatto lo stupido E spero di riscattarmi veramente questa volta Facendo un pochino di più l'intelligente Ciao ragazzi Questa volta forse un pochino di più l'intelligente